Diciamo che le sfide mi piacciono, comunque ci piacciono al tutto il gruppo, quindi siamo pronti per partire anche noi con questa maratona e comunque vada, sarà un successo e assolutamente ci siamo. Siamo pronti, abbiamo voglia di cambiare, abbiamo voglia di esserci per tutti i cittadini soprattutto. Quarantenne impiegata, mamma, consigliere comunale uscente. Lara Rizioli correrà per la poltrona di primo cittadino di Campodarsego, l'unico comune dell'Alta Padovana al voto alle amministrative di maggio. Il gruppo del Carroccio ha sciolto le riserve nelle scorse ore. Da domani parte la campagna elettorale. Diciamo che di priorità forse ce ne sono tante, tantissime. Noi vogliamo comunque sentire i nostri cittadini, i nostri paesani e con loro comunque capire quale può essere effettivamente la prima. La Lega del Campo San Pierese esclude apparentamenti con altri partiti. La Lega correrà a Campodarsego con il suo simbolo Lega, appoggiata da una lista civica che si chiama Famiglia e Sicurezza. Un candidato sindaco giovane, un candidato sindaco donna e siamo convinti di vincere a Campodarsego, di giocarcela, di fare un po' tutto quello che sarà il possibile per presentare un programma di rinnovamento, un programma che metta al centro dell'attenzione il cittadino.